Il mese di giugno 2024 lo abbiamo già visto, ti lascio qui sopra il link per andarti a vedere quello che ci accadrà durante l'intero mese. Oggi vedremo dal 3 al 9 giugno 2024, lo farò con due mazzi, quindi scegli fra l'avventurina verde per il primo mazzo di Tarocchi, l'ametista o il quarzo rosa. Per il secondo vediamo la tua settimana dal 3 al 9 giugno, vediamo un po' l'avventurina verde, cosa ci racconta. Partiamo con gli oracoli volume 3, andiamo a vedere come sarà la settimana dal 3 al 9 giugno per coloro che hanno scelto l'avventurina verde. Avventurina verde, come trascorreranno la settimana dal 3 al 9 giugno. Ok, prendiamo la prima. Allora qui c'è una pausa, quindi qui siamo in attesa di qualcosa, c'è qualcosa che è fermo, ma attenzione che è in pausa, che è in stand by, quindi mi viene da pensare all'attesa. Ora qui sotto nel taglio c'è questo uomo, quindi magari c'è semplicemente una comunicazione interrotta con questo tizio, attenzione, non è detto sia Giuseppe o Mario o Matteo o chi cavolo ti fa... Io non so più come dillo, quando si parla di previsioni della settimana, magari sei in pausa con l'idraulico che ti devi chiamare, cioè non si può dire che le carte non ti rispondono. Sei te che tu ti fai un'idea ad un tizio, invece è Caio, non so se mi sto spiegando. Le carte ti parlano di un essere maschile, punto. Non è detto sia il tuo ex, io non ho più fiato per dirlo, ma nonostante tutto si va a diritto, boh vabbè. Quindi, detto questo, qui siamo in pausa, siamo in attesa, qualcosa è fermo, c'è una pausa, va bene? Qui abbiamo le gambe accavallate, incrociate, siamo lì insomma, che stiamo aspettando qualcosa, siamo fermi, ok? Abbiamo spento la vespa, ok? E siamo in attesa di qualche cosa, vediamo di cosa e che cosa accadrà. Allora, andiamo a vedere, avventurina verde, dal 3 al 9 giugno. Ho già fatto le previsioni per l'intero mese di giugno, vattelo a vedere, ti lascio qui sotto nella descrizione del video o alla fine del video. Se arrivi in fondo ti metto il link che puoi cliccare e andartelo a vedere. Ho iniziato a pubblicare anche l'oroscopo dei segni zodiacali per il mese di giugno, va bene? Ne ho già pubblicati diversi, altri li pubblicherò da domani in avanti, ok? Ci sto lavorando. Allora, vediamo, qui c'è un trono, posizione autoritaria. Quindi, questo è molto positivo. Attenzione, 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 avventurina verde. E effettivamente, aspetta, e qui c'è il portafoglio, una borsa di monete, fai attenzione alle tue finanze. Ma, allora, qui c'è un qualcosa, magari potremmo essere in attesa dell'autorità che ci deve dare soldi. Vedi come parlano le carte, per esempio, ok? Quindi, magari stiamo aspettando una risposta da un qualche tipo, ok? Magari abbiamo chiesto un mutuo, abbiamo chiesto un finanziamento, oppure ci devono pagare al lavoro. Qui c'è un'autorità anni in mezzo. Tu potresti anche essere te, sinceramente, avventurina verde, che tu sei in una posizione di comando, di decisione. Come dire, tu ti giostri te e le tue situazioni. Nessuno ti può comandare o ti può dire come lavorare, quando lavorare, come guadagnare. Anche questo, anche questo. Quindi, vedi che un po' la tua situazione qual è. Ma è anche vero che qui c'è, qui c'è una, potresti essere in attesa, in attesa, di una somma di denaro che ti deve arrivare da un'autorità. Quindi, IMSS, banca, datore di lavoro, assicurazioni, che ne so io. Un'autorità, un ufficio, non so come meglio dire. Magari anche la decisione di un giudice per il mantenimento. Cioè, capito? Ecco, può essere un po' tutte queste cosette qua. Qui c'è la lettera, vedi? Vediamo per l'avventurina verde, dal 3 al 9 giugno. Guardati anche, guarda, lettera. Quindi, qui arriva effettivamente una lettera da parte di un'autorità che riguarda del denaro. Quindi, qui tu sei in attesa, perché sotto l'attesa poi c'è un'offerta e le chiacchiere. Quindi, qui la comunicazione dopo questa pausa arriva, ok? Quindi, qui tutto mi manda verso il denaro, verso il denaro, verso i soldi, verso una situazione economica, le finanze, in poche parole. Qui ci parlano, fai attenzione alle tue finanze. Quindi, qui c'è un qualcosa, ok, che ci manda proprio in quel terreno, in quel territorio, là. Voglio tirare anche le sibille, un paio di sibille e poi passiamo ai nostri tarocchi, va bene? Mmm, la situazione si fa interessante, avventurina. Vediamo un po'. La vecchia signora, vedi? La vecchia signora. Il domestico, elimeneo, ok? Qui c'è un qualcosa di vecchio, quindi è un qualcosa che tu hai in ballo da un po' di tempo. Vedi la pausa? Che tu aspetti da un po' di tempo. che si sblocca, nel senso che qui ti arriva una comunicazione che riguarda questa situazione un po' datata, che è un po' di tempo che tu hai in ballo. Avventurina. Qui tutto mi parla di denaro. Ora tu mi dirai, ma io con il denaro non ho nulla a che vedere. Va bene, magari si tratta di un qualcosa di pratico che tu devi fare. Andiamo a vedere. Avventurina verde. dal 3 al 9 giugno 2024. Il 4 di denari. Di nuovo si va. carta a denari. Avventurina verde dal 3 al 9. Il 2 di bastoni. Il mondo. La regina di bastoni. e gli amanti. Eccola là. Allora, guarda. Qui c'è una lettera. Va bene? Una lettera, una comunicazione che arriva, molto importante. Magari che tu sta pure aspettando, perché qui c'è questa pausa. Allora, guarda. Qui vedo tante cose. La più forte, diciamo così, è un accordo, una comunicazione che arriva riguardo. un accordo, ma quella più forte è il denaro. Guarda, è l'imperatrice nel taglio del mazzo. Va bene? Qui c'è un'offerta da un qualche tipo. Un'offerta, una proposta. Un qualcosa che ti viene porto. Porto. Offerto. Dato. Proposto. Va bene? Che sia del denaro, nel vero senso, proprio della parola, perché qui c'è questa busta. Ok? Oddio. A dir il vero non è che ti dice denaro in arrivo. Qui ti dice fai attenzione alle tue finanze. Ok? Effettivamente qui c'è una lettera, una comunicazione, qui c'è la lettera, una comunicazione che ti arriva da una autorità, autorità in tutti i sensi. Per esempio, mi viene da pensare se tu lavori con YouTube, l'autorità è YouTube, no? Questa azienda grossa, enorme, non so come meglio dire. Può essere proprio una multinazionale. Capito? Tutte cose di questo tipo, ragazzi. Traducetela anche voi alla vostra vita. Siamo decine di migliaia di situazioni. Ok? Quindi, questa comunicazione importante che arriva, un qualcosa che ti viene proposto, che ti viene comunicato, per la qualcosa che tu devi prendere una decisione, devi fare una scelta. Qui poi sta a te decidere e scegliere. Quindi, o tu devi decidere su due cose, su due alternative. Capito? C'è un po' di dubbio, eh, da parte tua. Io ti vedo un po' sentennare, non so per quale motivo. Però, qui va trovato un accordo, dunque, qualche tipo. Ci si deve mettere d'accordo. C'è un qualcosa che tu potresti dover firmare, a dire il vero. Effettivamente, guarda, in questa lettera, fra le altre cose, è vero che è una lettera e che quindi è una comunicazione che arriva. Questo è il primo significato. Ma, vedi, c'è proprio la carta e il calamaio, mi viene da dire, con la pena. Quindi, può essere che tu debba proprio mettere la tua firma su un documento, perché vedo la scelta che tu devi fare. Ok? Quindi, questa è una cosa. Oltre a questo, qui ti vedo incontrarti con qualcuno. Oltre a tutto quello che ti ho detto, ci potrebbe essere un incontro anche affettivo, insomma. Ecco. Un po', sì, con un giovanotto, con una signorina, insomma. Dipende un pochino chi tu sei te, se tu sei l'uomo, se tu sei la donna, eccetera. Va bene. Quindi, un incontro passionale, un incontro buon lo focoso. Quindi, c'è anche quello. La passione, il desiderio con qualcuno. Sicuramente c'è anche quello. Ma c'è anche il rifarsi vivo, il risentire qualcuno che non sentivi da un po'. O comunque un qualcuno, come stavo dicendo all'inizio, che tu stai aspettando da un po' di tempo. E che potrebbe, forse, riapparire. Oltre a tutto quello che ti ho detto, qui ti vedo anche uscire, andare da qualche parte. Non escludo un viaggio addirittura. Ok? O con un'amica, con una sorella, insomma, con una giovane fanciulla. Va bene? Qui, con una donna. Tu potresti fare qualcosa con lei. Se è un'amica, se è una sorella, se è la madre. Questo, insomma, tu lo saprai. Tu lo saprai te. Quindi, molto movimento durante la settimana. Qui c'è proprio da divertirsi. Non escludo, come stavo dicendo, un viaggio. Anche abbastanza lontano, a dire il vero. Se poi non lo fai, magari tu lo programmi. Ecco, tu potresti anche cominciare a programmare un viaggio e volerti riappare da qualche parte. Qui posso vedere, posso vedere anche quello. Quindi, qui c'è il succo di tutto. Una comunicazione importante da una autorità. O comunque una comunicazione riguardo dei denari, dei soldi. Quindi riguardo le tue finanze. Qui le carte te l'hanno detto. Però, oltre a questo, qui c'è anche proprio l'incontrarsi, il vedersi con qualcuno. Va bene? C'è un invito, un invito a uscire, un invito per un viaggio, una proposta, no? Di un qualche tipo, da parte di qualcuno che sicuramente ti arriverà. Che presuppone anche una tua scelta, una tua decisione. Qui tu devi decidere un qualche cosa. Vediamo anche i segni. Poi, come ti ho detto, ho già pubblicato alcuni segni zodiacali. L'oroscopo per il mese di giugno. Gli altri li sto pubblicando adesso. Allora, qui c'è con quali segni zodiacali tu avrai a che fare. Senz'altro con il capricorno, va bene? Vediamo, avventurina verde con il cancro. Qui c'è anche una donna, eh? Che ti propone qualcosa, insomma, con cui tu farei qualcosa di carino durante questa settimana. Vedo i denari e il viaggio. Andiamo a vedere. Sagittario, cancro. L'abbiamo visto, sì, il cancro che viene confermato. Quindi capricorno, cancro, sagittario. Con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina? Vediamo un pochino. Con i gemelli, con lo scorpione, con la bilancia. Gemelli vengono subito confermati. C'è Giove in gemelli, eh? Giove che ha cambiato segno, ragazzi. Quindi, mi raccomando, guardatevi l'oroscopo di giugno. Vediamo l'ariete, il leone, la vergine. E l'acquario l'abbiamo visto? No, l'aggiungiamo adesso, ok? Quindi capricorno, acquario, sagittario, scorpione, leone, gemelli, bilancia, vergine, cancro, ariete. Questi segni zodiacali più evidenti. Comunque sia quello che ti deve far fede è naturalmente la stesa che ti deve richiamare la tua situazione. Guardati se vuoi anche l'altro mazzetto come vi consiglio di fare sempre, ok? Le previsioni del mese di giugno, ti lascio il link in fondo a questo video, lo trovi. E l'oroscopo per il mese che sto finendo di pubblicare, per i segni zodiacali. Andiamo a vedere l'altro mazzetto adesso, dai andiamo. Vediamo la settimana per l'ametista e per il quarzo rosa. Dal 3 al 9 di giugno, lasciamo i tarocchi qui in un angolo e partiamo con gli oracoli volume 3. Quarzo rosa e ametista, come trascorreranno la settimana dal 3 al 9 giugno 2024. Un T4, aha, la ritrosia, beh, qui sembrerebbe veramente che, come si dice, prendiamo la porta e ce l'andiamo. Quindi c'è un qualcosa che è la strada, guarda, c'è un qualcosa che ci lasceremo alle spalle, ok? A cui daremo la schiena, cioè della serie, come Dio io non mi fanno agrabbiare, pigiami la targa. Io vò via, ecco, capito? Quindi qui c'è effettivamente un qualcosa che ci lasceremo alle spalle. Potrebbe essere, dico, potrebbe effettivamente trattarsi di un viaggio, di un viaggio vero e proprio, di un trasloco, di un trasferimento, ok? Quindi del recarsi, dell'andare veramente da un posto, da un luogo ad un altro, nel vero senso della parola. Come si potrebbe trattare, effettivamente, ora butto giù tutto, come si potrebbe trattare effettivamente di un dare le spalle a qualche cosa, cioè un lasciarsi qualcosa alle spalle, l'abbandonare un terreno di un qualche tipo. Andiamo a vedere la settimana del quarzo rosa e dell'ametista. Per indagare meglio, io ho già pubblicato le previsioni, quindi con i tarocchi, no? Per il mese di giugno, ti lascio in fondo a questo video, trovi il link, ti apparirà il link. Quindi vattelo a vedere. E anche l'oroscopo dei segni zodiacali per il mese di giugno. Ne ho pubblicati alcuni segni, ora sto pubblicando tutti gli altri. Vattelo a vedere. Qui fanno vedere una donna e l'amore. Quindi qui avremo a che fare con una donna. Qui non ci dicono se è bionda, se è nera, se è giovane, se è anziana. Non ci dicono nulla. Ci parlano di una donna, una figura femminile, che a quanto pare sarà importante. E l'amore. Ma guarda, qui chissà dove ci portano. Vediamo dove ci portano. Settimana dal 3 al 9 di giugno. 3-9 giugno 2024. Aiuto. Qui non si girano nulla. Ok, qui il barile. You feel something is lacking in your life. Perhaps love money goes. C'è qualcosa che tu, che tu senti che manca nella tua vita. Sai quando ci dice sento e nella mia vita mi manca qualche cosa, no? Ok. Potrebbe essere l'amore, potrebbe essere il denaro, potrebbero essere degli obiettivi di vita. Andiamo a vedere. Ma qui si fa interessante, bambine. Aspetta, voglio tirare le Lenny. Le Lenormand. Ok. Il diario e l'anello. Il diario e l'anello. Mamma mia. Qui c'è del mistero, ragazzi. Ok, c'è anche le Sibille, ma le tiro dopo. Vediamo, lor signori, i tarocchi. Questo è un mazzo di cui sono orgogliosissima, sono stupendi. Tarocchi volume 2. Vediamo cos'hanno da dire i tarocchi, eh. Poi andiamo avanti. Ci sono anche le Sibille. Tiriamo anche le Sibille chiacchiarine. Ma voglio vedere dove ci portano. Qui effettivamente c'è un qualcosa che ci lasceremo dietro. Sicuramente c'è un viaggio, perché c'è anche quello. Guarda, additti la forse di tutta. Capisco che non sia per tutti, per l'amor di Dio. Ma qui ci può essere qualcuno di voi che potrebbe o leggere o venire a conoscenza di un testamento, eh. Qui ci sono delle volontà da parte di qualcuno. Quarzo rosa e ametrista. No, voglio cinque carte. Ok, prima carta, il 3 di bastoni. L'asso di coppe. Che bello. Mamma mia, ben voglia di gelato. Allora, 3 di bastoni. Guarda che sa fa così. Le vedete se ve le metto qui? Sì. Così mi faccio un pochino più spazio per i tarocchi. Guarda, qui ci stanno benissimo. Questo diario anello mi fa molto pensare. 3 di bastoni. Asso di coppe. Vediamo, settimana per il quarzo rosa e l'ametista. Dal 3 al 9 giugno. Dal 3 al 9 giugno 2024. Ok. L'eremita. L'eremita. Bello. Guarda com'è questa carta. No, ora via. Ditemelo che sono belle. Dai. Guarda com'è questa carta degli amanti. No, è stupenda. Allora, gli amanti. Fra l'altro fa pandane, eh. Con il quarzo rosa e l'ametista che avete scelto voi. Quindi. Ok. L'ultima carta. Vediamo un po'. Quarzo rosa ametista. Questa settimana dal 3 al 9 giugno 2024. Ok. Il 9 di denari. E il 3 di denari che c'è nel taglio. Ma allora bambine, qui... Ma... Qui c'è un mistero, una osa. O che casino è questo? Ma... Allora, guarda. Qui sicuramente c'è... Fammi vedere una osa. Quarzo rosa ametista. Qui c'è un progetto di un qualche tipo. Qui c'è sicuramente un qualcosa che vogliamo fare, che dobbiamo intraprendere, va bene? Intraprendere anche, insomma, con una certa... Esattamente. Con una certa... Guarda l'imperatore. Con una certa audacia, va bene? Con una certa audacia, quindi ci dobbiamo lanciare da qualche parte. Ma io credo che qui, guarda, per alcuni di voi ci può essere veramente una nuova conoscenza, un nuovo amore che parte, che inizia. Effettivamente qui c'è l'amore, ma non lo dico solo da questo. Quindi qui ci potrebbe essere un qualche cosa di nuovo che entra. Qui si... È come se ci fosse un passaggio, perché anche qui mi fanno vedere il vecchio e il nuovo. Quindi o si chiude, vedi questa porta, no? Si esce, si va, ma si va verso qualcosa di nuovo. Quindi qui si intraprende una nuova strada. Si imbocca una nuova strada. Che sia in amore, nel lavoro, in altre cose non importa. Perché qui questo barile, un po' di tutto mi parla. Quindi per chi di voi si può trattare di un amore, per chi si può trattare di un discorso economico, finanziario, quindi denaro, per chi di voi si può trattare di un nuovo obiettivo. Come si dice, imbocco una nuova strada. Quindi qui, senz'altro, ora sarebbe curioso sapere di che segno siete, dove avete l'ascendente, per vedere se... se è questo Giove in gemelli, no? Che vi fa intraprendere tutto questo ambaradan, tutto questo discorso. Fatto sta che qui c'è effettivamente un imboccare una strada. Qui si imbocca una strada, ma si imbocca una strada dopo averne lasciata un'altra. Quindi qui non è che si parte da zero. Si cambia percorso, mi viene da dire. Capisci? Quindi ci si lascia alle spalle un qualcosa e si intraprende qualcosa di nuovo. Qui c'è anche una coppia. Va bene? Guarda com'è questa coppia. Quindi qui c'è anche una coppia che potrebbe essere una coppia in amore, nel vero senso della parola, quindi un nuovo amore che sboccia, un incontro d'amore con qualcuno, perché qui c'è anche tanta passione, tanta attrazione l'uno verso l'altra. Ok. Potrebbe nascere, perché no, un amore fra amici, cioè un amore fra persone che si conoscono già da un bel pezzo, che però intraprendono questo qualcosa soltanto adesso. Ok. Posso vedere anche questo da queste carte. E c'è sicuramente comunicazioni, quindi una lettera, una comunicazione affettiva, delle parole d'amore che ti arriveranno, senz'altro. Ok. Quindi qui c'è anche quello, ma c'è anche proprio un incontro. Un incontro che però potrebbe essere tenuto nascosto. Attenzione, almeno all'inizio, perché qui vedo anche un po' il nascosto, quindi un qualcosa che diciamo che vogliamo fare con una certa privacy. Ecco. Mettiamola, mettiamola o sì. Ok. il tenere le cose un po' per noi. Vediamo un attimino. La speranza con la donna di servizio. Qui ci può essere chi di voi ha una storia o avrà una storia, un incontro nascosto, perché, insomma, perché impegnato da un'altra parte, insomma, capito? Vediamo una carta. Speranza donna di servizio. Amore. Vedi? Ah, ce n'è un'altra nel mezzo. Vedo, ma vabbè, è uscita così, lasciamola così. E la giovane fanciulla del taglio. Quindi qui ci può essere effettivamente, come ti stavo dicendo, un incontro di un certo tipo con qualcuno, ma tenuto nascosto, capito? Comunque, una comunicazione, qui c'è l'amore, guarda com'è questa storia di coppa e com'è questa carta dell'amore. Anche questi sembrano tutti cuoricini. Quindi sicuramente una dichiarazione d'amore, un nuovo amore, o comunque, anche se non è nuovo, qui c'è un sentimento, qui c'è un amore, un sentimento, un'emozione molto, molto forte durante questa, durante questa settimana. Guardati, Dio, la verità, qui c'è anche un incontro, lo abbiamo visto, tutti che ti pare. Qui c'è anche un'uscita, nel senso, o una scena, o una bevuta, ok? Oddio, io vedo anche l'albergo, quindi magari tu vai da qualche parte, perché qui ci può essere anche il viaggio, eh? Magari per il weekend, boh, insomma, tu potresti veramente andare da qualche parte, in albergo, una casa, insomma, da qualche parte, spostarti, andare. Ah, una cosa, non so se te l'ho detta, qui c'è anche del denaro in arrivo, eh? Magari semplicemente, è semplicemente lo stipendio, non è detto, si parli, chissà di quali soldi, però effettivamente c'è anche quello. qui c'è un viaggio, uno spostamento, una comunicazione, ci potrebbe essere anche una, ehm, come ti posso dire? Guarda, se vuoi, anche una rivelazione, eh, di un qualche, di un qualche tipo, e poi la risoluzione, cioè si arriva alla conclusione, alla risoluzione, di una determinata situazione. Guarda, io però vedo, qui ci hanno fatto vedere le woman, qui la donna, e non ci hanno detto com'è, anzi, io la fanno vedere qua quelli neri, ma non ce la descrivono come bruna. ma io qui vedo, una donna bionda, non so se tu sei te, o tu avrai a che fare, con una donna dai capelli chiari, poi tu me lo farai sapere, comunque qui c'è anche un incontro, e non lo dico solo per questa carta, ovviamente, va bene? c'è anche un incontro, che potrebbe, come ti ho detto, essere tenuto nascosto, o comunque trovarsi in un posto calmo, tranquillo, vivere dei momenti di tranquillità, proprio di silenzio, sai quando si dice, no? Anche stare insieme, semplicemente in silenzio, l'uno accanto all'altra, ecco, qualcosa di questo, qualcosa di questo tipo, qui c'è una scena, o comunque una bevuta, quindi senz'altro qui, dal 3 al 9 di giugno, tu farai anche un'uscita, ok, un incontro, qui c'è uno spostamento, sicuramente tu direi da qualche parte, e poi c'è un cambiare strada, per un qualche motivo, c'è un lasciarsi qualcosa alle spalle, e intraprendere qualcosa di nuovo, guardati le previsioni mensili, per il mese di giugno, ti lascio il link giù nella descrizione, o qui alla fine del video, perché ne vale la pena, magari ti aiuta a capire qualcosa in più, e poi vabbè l'oroscopo del mese di giugno, per i segni zodiacali, che ho già iniziato a pubblicare segno per segno, allora con quali segni zodiacali, tu avrai a che fare in questa settimana, sicuramente con l'ariete, vediamo cos'altro ci danno, con l'ariete, questo niente qui, cos'è volato, ormai hanno preso l'abitudine di volar di sotto, l'acquario, ariete, acquario, cancro, toro, bilancia, cancro viene confermato, pesci, pesci, vediamo un po', cos'altro, fammi sapere che strada intraprendi, e a chi dai le spalle, di nuovo acquario, quindi l'acquario viene confermato, con quali segni zodiacali avrà, con i pesci, li abbiamo visti, quindi i pesci vengono confermati, il sagittario, il leone, il toro, che viene confermato, ariete, toro, bilancia, pesci, sagittario, acquario, cancro, leone, bilancia viene confermata, con quali segni avrà a che fare, scorpione, qui c'è sicuramente una forte emozione, durante la settimana, queste poma, sicuro, gemelli, vergine, il sagittario, l'abbiamo visto, ariete, che viene confermato, e il sagittario, lo mettiamo, sì, viene confermato, era già uscito, qui c'è anche questo imperatore, quindi sicuramente, una figura molto importante, durante questa settimana, e gli amanti, quindi sicuramente, qui c'è anche, un'emozione molto molto forte, una scelta da fare, ok, e un incontro con qualcuno, un incontro, che può essere di passione, ma anche perché no, un incontro amichevole, o comunque con una persona, con cui abbiamo, un forte feeling, un forte legame, affettivo, che non è detto, sia soltanto un discorso, ecco, passionale, uomo-donna, o donna-donna, uomo-uomo, quel che sia, insomma, spero di essermi spiegata, io vi auguro, una splendida settimana, guardatevi anche l'altro mazzetto, come vi dico sempre, mi raccomando, sempre di guardarli, entrambi, le previsioni per il mese, e poi l'oroscopo, per il tuo segno zodiacale, un bacione a tutti, e vi aspetto qui, mi raccomando, al mio prossimo video, ciao!